Sì, 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 no, ci vediamo di dire, non abbiamo preparato di scuola, non siamo un po' alti. Quello che ti vedi, insomma, della vita, del lavoro... Ci sono una fortuna per fare il lavoro che uno piace, lavoratori giusti, la famiglia viaggia tanto, anche la famiglia. Anche la famiglia, però ha toccato il tasto molto reale, anche la famiglia, perché comunque dietro gli uomini o le donne di successo c'è sempre anche una famiglia che aiuta. E qui c'è anche tra l'altro la moglie e la figlia del signor Medici, che se si vanno a vedere mi parete piacere. Dai, venite. Dai. Prego. Se in realtà è stato tutto preparato per dimostrare che anche siamo primiato gli uomini meglio. È così, eh? Ci sta, ci sta. È vero, è vero. Ci sta. E non mi confondi.